Reati, furti e rapine arriva la classifica annuale del Sole 24 Ore sui dati del Ministero dell'Interno che fotografa i delitti commessi e denunciati sul territorio nell'anno precedente in rapporto alla popolazione residente. Con 10.788 denunce in totale, Avellino è 83esima su 106 nella classifica generale ma nel dettaglio dei reati la situazione cambia a seconda della tipologia del numero di denunce. E infatti Avellino è quarta nel ranking nazionale per l'aumento di reati legati alle minacce e 13esima per le percosse, posizione alta in classifica, anche alla voce, omicidio colposo da incidente sul lavoro. Aumentano anche gli incendi che vedono la città di Avellino al 19esimo posto nella classifica nazionale con 94 denunce per incendi e 66 per incendi boschivi. Avellino primeggia in classifica anche per i delitti informatici con 286 denunce e sono in aumento anche i reati di truffe e frodi informatiche. 1888 denunce in un anno, trend in salita, che portano Avellino al quarantesimo posto. Sul versante della criminalità organizzata il trend è in discesa ma aumentano le estorsioni e la provincia di Avellino resta alta in classifica per il riciclaggio e l'impiego di danaro. Per quanto riguarda i furti, Avellino è novantesima, 2654 denunce in un anno con trend in calo rispetto all'anno precedente.